Sonia Fulim, buongiorno. Buongiorno. Benvenuta davvero qui nel posto delle parole per farci ascoltare le novità di questa festa del racconto. Già mi piace l'idea del racconto, ma devo dire che già mi piace anche l'idea di averla chiamata festa e non festival. Questo mi sembra già una cosa distintiva. Che ne dice Sonia Fulim? Sono perfettamente d'accordo. Anch'io è una cosa per la quale non ho alcun merito. La festa del racconto in realtà quest'anno arriva la maggior età, compie 18 anni. E qualcuno quindi 18 anni fa prese la decisione di chiamarla festa del racconto e non festival. E io non posso che esserle o essergli grata perché anche io trovo che sia veramente molto bella l'idea di celebrare il racconto. La festa del racconto nasceva inizialmente per celebrare il racconto inteso come short story per intenderci, cioè il genere letterario del racconto, racconto breve. Noi quest'anno abbiamo voluto allargare il concetto del racconto a tutte le forme di racconto possibili. Quindi sicuramente ci saranno molti appuntamenti dedicati ad esplorare, analizzare, a rileggere il racconto breve, ma anche moltissimi appuntamenti volte a scoprire tutte le forme di racconto possibile. Racconto orale, racconto per immagini, per fumetti, per fotografie. Ovviamente il romanzo che svolge comunque un ruolo da protagonista. Sì, perché la festa del racconto, come dice l'immagine, è nel presentare il programma Esplorare mondi, intrecciare storie. Ed è questa la missione della festa del racconto che si svolge dal primo all'8 ottobre prossimo a Carpi, Campogagliano, Novi di Modena e Soliera. Sono piccoli paesi, ma che hanno una grande attenzione in questi giorni e credo che sia anche una cosa molto bella. I festival anche nei piccoli paesi, anche perché laddove c'è una piccola realtà ci possono essere grandi intuizioni. Assolutamente. Questa è una collaborazione fra quattro comuni che c'era fin dalla nascita della festa del racconto. È molto bella perché unisce tutta la regione, l'Unione Terre d'Argine, poi, in questa celebrazione, in questa festa. Quindi sì, gli appuntamenti sono sparsi in diversi comuni. Si inizia il primo ottobre a Novi di Modena con Pablo Trincia e si chiude a Carpi l'8 ottobre come ultimissimo appuntamento della giornata il concerto di Vinicio Caposela nel bellissimo teatro di Carpi. Quindi si chiuderà sicuramente in grande bellezza nella coniugazione del verbo raccontare su più livelli, più registri, anzi non più livelli, su più registri per quanto riguarda questa festa del racconto. Com'è stato, come è stato, Sonia Folini, visto che lei è alla direzione artistica, com'è stato creare questo programma creando una trama anche molto fitta nella parola racconto? Diceva poco fa, dalla letteratura all'espressione video, passando per altri mondi di racconto. Esatto, sì. Noi abbiamo, beh, intanto c'è tanto lavoro e tanta pazienza e tanta perseveranza. E questo va detto perché, insomma, appunto si lavora con autori, con persone, con idee e quindi con un margine di imprevisti anche che possono capitare, ma anche di belle sorprese. Questo nel tracciare un pochino il palinsesto, no? Via via che andavamo avanti a lavorare. Esplorare modi e intrecciare storie è stato proprio un po' la nostra bussola che ci ha aiutato a comporre il programma, mantenendo come punto fermo la volontà, come dicevo prima, di esplorare anche il racconto come genere letterario. E quindi qui, sia per quanto riguarda i grandi classici, a partire dall'antologia americana portata da Bonpiani in Italia nel 1941 e che raccoglie le più grande voci della narrativa americana attraverso il racconto, che ci verrà, insomma, l'accoglienza di questa antologia ci verrà raccontata da Marco Drago a Soliera. Oppure Susanna Basso e Rossella Milone che si confronteranno su grandi autrici del genere del racconto come Elisabeth Strout, Jane Austen e Alice Munro. E poi abbiamo anche in programma incontri che ruotano intorno invece ad antologie di racconti però contemporanee, magari che nascono da un'idea di un curatore che invita a una serie di autori a ragionare o a scrivere o a inventare qualcosa a partire da uno stimolo, da un'idea. E questo è, diciamo, per quanto riguarda la parte di short story. Dopodiché, esatto, come dicevamo prima, abbiamo il racconto orale con diversi reading. Fabio Stassi che insieme a Neri Marco Re farà un reading ispirato al suo ultimo libro notturno francese. Paolo Nori che farà un reading, diciamo, un monologo per immagini in cui ci saranno oltre al racconto di Paolo Nori anche fotografie, ma musiche e voci originali di Tolstoi, di Anna Matova e di Josi Sprotsky. Ci sono poi i podcaster a cui abbiamo voluto dare particolare spazio perché, insomma, ci sembra che davvero sia un po' il mezzo del momento che continua a crescere. E quindi Pablo Trincia, Stefano Nazzi che è autore di questo podcast assolutamente diventato di culto, indagini che si occupa di indagare il male, Cecilia Sala, Luca Sofri, Francesco Costa. Insomma, il ruolo del racconto orale attraverso il podcast occupa uno spazio importante all'interno del programma e, insomma, penso che sarà apprezzato. Eh sì, perché poi la parola podcast è una parola che sta bene con il racconto, con il a raccontare indagini, per esempio, quello citato poco fa, oppure da Costa Costa, l'altro podcast sulla vita americana, tanto per citarne due tra quelli che abbiamo ricordato. Ma adesso pongo una domanda, ma veramente banale, Francesco, Sonia Fuling. Ma allora, quando è che il racconto smette di essere racconto e diventa romanzo? Questo è banale, ma non per questo meno difficile. Ci sono, diciamo, forme intermedie, come la novella. Adesso mi viene in mente, per esempio, che noi stiamo in questi giorni sui canali social della Festa del Racconto diffondendo dei brevi video che gli ospiti hanno avuto la generosità di inviarci in cui consigliano un racconto che, diciamo, li ha cambiati o che avrebbero voluto scrivere loro, che in qualche modo stavano particolarmente a cuore. E nel caso di un paio di autori, almeno, in realtà si trattava di racconti, ma anche di romanzi brevi o novelle. Insomma, è vero che c'è una sorta di zona di confine che è difficile da demarcare, da delimitare. Forse quella che è stata vista come tratto distintivo delle due forme di espressione è riassunta bene da Antonio Tabucchi, che per parlare della differenza fra racconto e romanzo utilizzava la metafora della casa di proprietà e dell'appartamento in affitto, dicendo che il romanzo è quella cosa che sta lì ad aspettarti, ci puoi sempre tornare, ci puoi passare tutto il tempo che vuoi. Mentre il racconto è come se fosse, appunto, un alloggio in affitto in cui si sta allo stretto tempo necessario per cogliere quello che si deve cogliere. Secondo me questa... Belle queste due immagini. Antonio Tabucchi. Accolto nel segno. Accolto nel segno. Ma un tempo si diceva che noi italiani non amavamo il racconto, che era un'esperienza che si faceva molto bene in altri stati. Mentre, per fortuna, anche questo pregiudizio, forse, questo modo di dire, questo luogo comune che noi non amiamo i racconti, credo che sia un pochino diradata. Chi ne pensa? Ma lo penso anch'io. Anzi, sto proprio iniziando a pensare che sia una sorta di, diciamo, così, appunto, una sorta di leggenda che si tramanda senza... Ora, è vero che se uno guarda la produzione editoriale nel suo complesso, certo che i racconti occupano uno spazio inferiore rispetto alla narrativa, al romanzo e questo è innegabile. È anche vero però che i racconti convivono moltissimo sia nelle produzioni di grandi autori di romanzi che hanno però anche talvolta Katrin Dunn, per esempio, che è un'autrice tra gli ospiti che sarà a Carpi la domenica 8 ottobre. Katrin Dunn è un'autrice oggi molto nota per la sua produzione di romanzi, ma che ha iniziato con i racconti e questo è vero per moltissimi autori. E convivono anche sui comodini dei lettori forti, perché poi i racconti sono anche un genere letterario a cui si ritorna volentieri. Io stessa ho Shirley Jackson sul mio comodino e ogni tanto ci ritorni. Quindi è vero, vivono una vita diversa forse rispetto a quella che vivono i romanzi nelle nostre librerie di casa, però non è una vita meno intensa. E poi diciamo anche oggi che è tutto quanto così veloce, c'è quella che viene definita attenzione parziale continua, che in tutti i momenti guardiamo magari lo smartphone, quindi la lettura di un racconto ci permette un po', Sonia Forin, di superare questa disattenzione continua. Sì, è vero, infatti è un buon modo per iniziare, paradossalmente sia a leggere che a scrivere, tornando al discorso degli autori che hanno utilizzato il racconto anche come palestra, quindi questo vale anche per chi si voglia cimentare con la scrittura, il racconto è un ottimo modo per iniziare ed è verissimo, infatti insomma anche nelle scuole vengono giustamente molto consigliati ai ragazzi perché fanno un po' meno paura. Dopodiché secondo me il passo per riuscire ad affrontare invece tomi con fogliazioni molto importanti è un passo breve alla fine. Festa del racconto.it dove scoprire tutti quanti gli appuntamenti di questo fitto programma dal primo all'otto ottobre, ma Sonia Forin qual è il racconto che l'ha cambiata, visto che l'ha detto poco fa per altri, adesso parliamo della sua posizione nei confronti dei racconti. Beh, che mi ha cambiata è veramente difficile, peraltro nel mio caso forse il racconto che mi ha cambiata è un romanzo e non un racconto, quindi non sarebbe… E allora qual è il romanzo? Io ho il ricordo chiarissimo del momento in cui il giovane Holden è entrato nella mia vita e del mio ritornare settimana dopo settimana in biblioteca, dopo averlo preso in prestito già tre volte, continuare a tornare per continuare a rileggere alcuni brani, alcuni passi del giovane Holden e quella è proprio una voce che mi ha cambiata, non lo so, ma sicuramente che è molto presente. E che cosa ne dice, a proposito di giovane Holden, nella traduzione uscita credo nel 2019 a cura di Matteo Colombo, una traduzione che in ogni modo ha fatto discutere, questo mi sembra anche molto bello, perché la traduzione non è qualcosa che rimane lì per sempre, è qualcosa, e lo chiedo a Sonia Forin in quanto anche traduttrice, quindi questo è un aspetto importante. Aiuto, sì, però questo è proprio un argomento monstre quello della traduzione del giovane Holden, è vero che curiosamente, in parte inspiegabilmente, ma poi in verità a livello istintivo, intuitivo uno ci arriva, il testo originale rimane quello che è ed è intoccabile, la traduzione invece è come se necessitasse di essere costantemente, costantemente no, ma di essere periodicamente rivista. La traduzione del giovane Holden è veramente un tema molto complesso, ecco, perché è una voce talmente a fuoco, talmente particolare, io ho avuto la fortuna di leggerlo in originale e quindi sono una lettrice forse un po' severa di qualsiasi traduzione, ma perché è una questione emotiva, perché quella voce lì mi è entrata proprio nel cuore attraverso la lingua inglese, anzi forse ha contribuito anche a farmi innamorare della lingua inglese e quindi insomma faccio molta fatica a rilanciarmi in merito. Eh sì, perché poi è una vicenda che, come diceva Sonia Folin, se ben compreso, vive nel presente, no? E la parola presente è anche un presente indicativo, non più al passato remoto questa storia, quindi vuol dire che c'è ancora più vicina e questo potrebbe essere sicuramente un'idea per avvicinarsi, per avvicinarsi alla lettura, essere ed essere anche toccati, toccati dentro, perché Salinger con questo romanzo tocca le persone, credo che sia una cosa molto bella sentire questo sentirsi toccati da una storia, che ne pensa? Sì, sì, sono assolutamente d'accordo e lo dico anche da mamma, nella inercesibile speranza che i miei figli si convertano alla lettura e no, mi fa piacere a questo proposito segnalare non soltanto un bellissimo programma ragazzi che ci sarà anche alla festa del racconto, ma anche diversi incontri che sono stati pensati proprio tenendo in mente anche un pubblico di lettori un pochino più giovani, non proprio bambini, ma insomma liceali, giovani, adulti, tra questi l'appuntamento con Viola Ardone, il cui ultimo romanzo è proprio fresco di stampa e che farà un incontro nella nostra piazza a Stolfo, a Carpi, incontro a cui saranno presenti moltissimi anche ragazzi del liceo e i giovani hanno letto anche tanto Il treno dei bambini e Olivia Denaro, i titoli precedenti di Viola Ardone e la domenica ci saranno a confrontarsi in un dialogo Enrico Galiano e Lorenza Gentile, moderati da Valentina De Poli, che parleranno dei loro rispettivi libri. Ora Enrico Galiano è proprio un autore che scrive sia per ragazzi che per adulti. È un idolo per i ragazzi, Edoardo Galiano. Esatto, e Lorenza Gentile è secondo me anche lei un'autrice molto letta trasversalmente a partire direi dai 16 anni in su. Quindi è una delle cose di cui siamo contenti, insomma, la speranza che la festa del racconto, oltre a celebrare l'arte di raccontare il racconto come forma narrativa breve, inviti anche i giovani e giovanissimi lettori ad avvicinarsi alla lettura. Chiudo questa conversazione prendendo lo spunto della parola arte che ha detto poco fa Sonia Folin perché nel programma festaderacconto.it potete scoprire anche le mostre, ne cito solo una perché è sicuramente una mostra straordinaria da vedere, quella di Emilio Isgroi, quindi è sempre un appuntamento molto importante. Grazie davvero Sonia Folin e buon lavoro con la festa del racconto. Grazie, grazie davvero a voi, arrivederci.